Una mattinata molto interessante perché è stata l'occasione per fare il punto come confesercenti insieme a Toscana Promozione, insieme al Centro Sud di Turistici del ruolo dell'associazione e quindi delle nostre imprese che rappresentiamo all'interno degli ambiti. Sono 28, sono tanti e hanno situazioni anche molto diverse l'uno dall'altro. Per la provincia di Arezzo ce ne sono alcuni che stanno lavorando anche in maniera significativa. È naturale che le imprese che rappresentiamo devono essere coinvolte per un lavoro di progettazione e di coinvolgimento dal basso senza le quali è difficile fare delle politiche sul turismo che funzionino. Sì, è un percorso che chiaramente è stato in questi anni condizionato, non lo neghiamo, dalle vicende Covid, però emerge anche la necessità di costruire dal basso, con un percorso partecipativo e maggiormente coinvolgente per le imprese, quella che è l'offerta del territorio. Crediamo e auspichiamo anche che la prossima revisione del testo unico del turismo possa intervenire correggendo quelli che possono essere stati i limiti dell'esperienza di questi anni. Certo è quello che chiediamo da sempre alle amministrazioni comunali, ambito valdichiana retina, ma sostanzialmente un po' per tutte quelle che sono le esperienze del nostro territorio, di auspicare, di confrontarsi sempre maggiormente con le associazioni di categorie e con gli attori presenti sul territorio che per primi vivono quotidianamente quelle che sono le criticità e quelli che sono invece gli aspetti di forza da valorizzare nella costruzione dell'offerta dal basso per vendere il nostro splendido territorio della provincia d'Arezzo.